Un uomo di 46 anni armato di coltello ha rapinato sabato scorso una parrucchieria nella piazza centrale di Fermignano. Erano le ore 15 quanto si è introdotto con un passamontagna e un coltello all'interno del negozio minacciando tutti i presenti. L'uomo italiano era già conosciuto alle forze dell'ordine come rapinatore seriale. Il malvivente dopo essere entrato nel negozio ha anche portato via alcune borse delle clienti liberandosene poi nel corso del tragitto. Il bottino però è stato magro appena 80 euro. Solo pochi minuti dopo grazie al tempestivo intervento degli organi di polizia è stato catturato da un agente della polizia locale che lo ha fermato durante la fuga. Il 46enne è stato arrestato dai carabinieri di Fermignano e portato al carcere di Pesaro. Grande la gratificazione del sindaco di Fermignano Emanuele Feduzzi che sulla sua pagina facebook ha scritto ringrazio il comandante Davide Felici, il capitano Alessandro Carpinetti e l'agente Alessandro Blasi per aver sventato la rapina di oggi. Ai ringraziamenti aggiungo i sempre bravi e professionali carabinieri di Fermignano che hanno dato ausilio e aiutato gli agenti della polizia locale nelle operazioni di arresto del malvivente. Tutta la cittadinanza vi è grata.